Altro video sulla cordiera, ma questa volta non è stata la domanda quale cordiera è adatta al jazz, domanda alla quale ho già risposto a mio modo. La cordiera adatta al jazz è quella che cazzo ti pare a te, ma vada via al culo. No, qui la cordiera nel senso che spesso rompe le palle, perché vibra sempre. Allora, io ormai ho adottato un sistema da 40 anni, cioè da subito, siccome mi infastidisce la cordiera quando vibra durante, non so, il sound check o durante una prova, mentre stanno suonando gli altri, e io in quel momento non devo suonare perché stanno provando magari degli accordi, delle cose, e la cordiera sotto, la cosa che faccio, tempo mezzo secondo, quando track la tolgo, così come l'ho già detto sicuramente in qualche video, quando suono con le spazzole la cordiera non la uso mai, perché la cordiera appiattisce tutti i suoni e i colori che io voglio creare con le spazzole. Quindi la cordiera con le spazzole è vietata, non dalla legge, da me. Anche durante il solo di basso, spesso le vibrazioni dell'ampli, del basso, che ho sempre vicino a me, fanno vibrare la cordiera. Allora, durante il solo di basso, la cordiera la escludo. Non parliamo poi quando capita il brano di piano solo, per esempio con Paolo Iannacci, durante il concerto c'è un momento in cui Paolo fa un intro di piano molto lunga. E cosa faccio appena attacca? Escludo la cordiera, perché odio sentire il suono del pianoforte con sotto... È una rottura di palle immensa. Altre volte succede che ci sia un brano completo di piano solo. Questo succede con Paolo Iannacci, succede anche con Dado Moroni, e succede anche con il mio trio. Dopo una nota di pianoforte, tac, io ho già staccato la cordiera. Insomma, la stacco sempre in tutti quei frangenti nei quali sentire questa grattugia sotto ai suoni degli altri strumenti mi irrita moltissimo. Consiglio a tutti i batteristi, fate caso a questo dettaglio. Quante volte io ho ascoltato un concerto di un gruppo e la cordiera è sempre inserita. E spesso dà fastidio, quando naturalmente il batterista e la batteria non sono a pieno regime. È chiaro che poi la cordiera vibra comunque quando si suona, perché quando suona il tom la cordiera vibra, quando suona il timpano la cordiera vibra. Non è che devi stare lì mentre suoni a togliere, metta la cordiera ogni due secondi. In quel caso il sound della cordiera fa parte di questa brace sonora. in tutti quei momenti in cui si discute di un qualcosa durante le prove o quando gli altri strumenti stanno provando qualcosa, staccate la cordiera. È un'abitudine tra le tante che dobbiamo acquisire per pulire i suoni. Per esempio un'altra cosa che faccio spesso è quando la i-hat, i due piatti, si scontrano e per un qualche motivo, per la pressione dell'aria, i piatti non suonano bene e fanno pum pum pum, io li giro mentre suono e io continuo a girare i piatti della i-hat se non sento il suono come voglio che sia. Tutti i dettagli che amplificano enormemente, secondo me, il nostro percepire un sound globale di gruppo pulito, i dettagli di pulizia di suono. Noi suoniamo uno strumento che vibra dappertutto, anche il timpano per esempio. Quante volte io suono il timpano con la bacchetta in mano stoppo il timpano. Macchinetta della cordiera, trick e track. I-hat, timpano, pum. E voi dite, la madonna ma che vita complicata, è un'ansia suonare la batteria. No, è questione d'abitudine. Se nelle orecchie vuoi avere il più possibile le sonorità pulite del tuo strumento e degli strumenti che ti avvolgono, che sono intorno a te, questi movimenti diventano abituali. Sono movimenti aggiuntivi che non sono scritti sui metodi, naturalmente, ai quali però io faccio molto caso quando faccio musica d'insieme con gli allievi. La prima cosa che dico al batterista, mentre suonano gli altri o mentre c'è il solo di basso o in determinate situazioni, oh, togli la cordiera, non senti che rompe il cazzo. Ah, già è vero. La cosa che mi soddisfa molto è che dopo un po' di tempo i miei allievi batteristi automatizzano questo procedimento. Non per questo il batterista diventa più bravo, ma sicuramente migliora la propria sensibilità sonora.